Il centro vaccinale lascia l'Arezzo Fiere Congressi e si sposta al Teatro Tenda, nell'area diacente al centro commerciale Sette Ponti. Il trasloco è previsto ai primi di aprile, in modo tale da avviare l'attività nella nuova sede, subito dopo Pasqua. La struttura è stata concessa, incomodato gratuito dalla Fondazione Guido d'Arezzo. L'ASL provvederà adesso ad alcuni piccoli lavori di adattamento alle nuove esigenze. Le potenzialità di vaccinazione saranno le stesse del padiglione di Arezzo Fiere e quindi una decina di postazioni. La concessione, incomodato gratuito, è un gesto istituzionale importante che rafforza la collaborazione tra comune e azienda sanitaria, commenta il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio Durzo. La campagna vaccinale prosegue e lo sforzo più importante che siamo stati chiamati a sostenere per dare una svolta al sistema di azioni anti-covid che tutti abbiamo messo in campo. L'esigenza di portare avanti e a compimento il complesso ed esteso piano vaccinale che rappresenta la mia maestra per uscire dalla pandemia, aggiungono Alessandro Ghinelli nella sua doppia veste di sindaco e presidente della Fondazione e il vice sindaco Lucia Tanti, non poteva che vederci assumere una posizione di completa sinergia. Lo abbiamo già dimostrato recentemente con l'accessione, incomodato d'uso gratuito all'ASL, dei locali al primo piano della ex sede circoscrizionale di Rigutino e del terreno prossimo a Via Laskida di Bire invece a parcheggio di pertinenza delle strutture ospedaliere. Quindi terminano Ghinelli e Tanti, adesso si aggiunge un ulteriore atto a conferma di questa nostra filosofia, un luogo di cultura che speriamo diventi luogo di ripartenza.